ciao a tutti benvenuti al secondo episodio di lezioni di guida oggi sono qui in inghilterra sempre con il mio scanietto il mio scanietto e oggi voglio mostrarvi un pochino come si si compie una ripartenza e salita con il camion solamente con la motrice senza rimorca quindi entriamo in cabina accendiamo il nostro motorone inseriamo la marcia sul freno a mano e ci posizioniamo sulla sulla salita per noi invece fa questa bella freccia allora fermiamo e cosa dobbiamo fare per ripartire inseriamo la prima ridotta cosa facciamo nel momento in cui faccio adesso mollo pian pianino la frizione e do un po di gas il camion inizia da sotto sforzo in questo momento significa che staccheremo il fanavano lo stacco io in questo caso e come possiamo notare il camion riparte in salita facilmente questa è una cosa molto facile adesso ci riprovevamo facciamo da fuori casomai ecco allora inseriamo il panorama prima ridotta sulla pressione di un acceleratore un po di gas sul panorama riparte in salita eccola qua e si parte facilmente questo un po di gas il camion in salita eccola e si parteciano di un po di gas il fattore che si parteciano di un po di gas e di un po di gas che è un po di gas e quindi Grazie.